Sono davanti alla chiesa di Orsanmichele, originariamente in una loggia costruita per il mercato delle granaglie, in seguito trasformata in chiesa delle arti, le antiche corporazioni fiorentine, che fecero a gara commissionare la statua del loro santo protettore e dei più importanti artisti. Tra essi Donatello, Brunelleschi, Ghiberti, Nani di Banco, le arti più potenti avevano le statue in bronzo, costose dieci volte di più di quelle in marmo e anche gli stemmi, alcuni sono in terracotta e in vetriata, i tondri sopra di esse, mentre altri pittorici adesso sono sbiaditi. Sapete perché l'arte dei beccai col San Pietro del Brunelleschi ha lo stemma in terracotta? Poché è anche se considerata una corporazione minore, i macellari fiorentini decisero di commissionare alla Manifattura Gisdori nel 1858 In onore dei loro antenati, questo stemma e a cavallo tra 7 e 800 si annerirono addirittura le statue di marmo per farle sembrare omogene in bronzo.